1-1 anche tra Arezzo e Catania per questo fallo in area di Polenta su Minoia lo stiamo per vedere l'arbitro, il signor fabbricatore di Roma al suo esordio in Serie B concede ai padroni di casa un calcio di rigore si incarica di realizzare dagli 11 metri Ermini che invece si fa parare il tiro da Marigo l'arbitro però ordina la ripetizione del calcio di rigore così dopo le rituali proteste è Ugo Lotti a segnare sempre dagli 11 metri la rete del momentaneo vantaggio dell'Arezzo appena un minuto dopo però Mandressi sigla subito il pareggio per la squadra siciliana con questo colpo di testa